buongiorno oggi è arrivato finalmente un filato che stavamo aspettando vi parliamo di remy ve lo presentiamo allora remy è un 70 per cento alpaca baby e un 30 per cento poliammide abbiamo gomitoli da 100 grammi che sviluppano 330 metri si lavora con i ferri numero 4 4 e mezzo e stessa cosa anche l'uncinetto 4 e mezzo 5 allora questo è il campione lavato e vediamo che lavandolo si ammorbidisce e risulta un po più peloso vi faccio il la differenza questo non è lavato e questo è questo è all'uncinetto allora per il momento abbiamo otto colorazioni che sono il rosso che è un bel rosso non un rosso arancio un bel rosso di natale è rosso natale rosso natale è bello scuretto poi abbiamo il blu e un blu scuro c'è pochissima differenza ve li metto vicini così forse potete vedere meglio poi abbiamo il color cipolla crema pietra te lo metto sopra pietra verde oliva e nocciola multicolor però arriveranno degli altri colori intanto ci hanno mandato questi e ho già detto che è uno stoppino è uno stoppino è uno stoppino quindi adatto per maglieria potrebbe essere adatto anche per calzini io spero vi piaccia a me piace a te colorazioni perché ha una gamma di colori direi quasi infinita e beh intanto vediamo se gli piace se funziona bene bene questo l'abbiamo l'abbiamo a no non vi ho detto il campione 10 10 che l'ho fatto misura 20 maglie per 30 ferri va bene hai qualcosa da dire tu haidi no no devo dire dei tuoi tirabaci i tuoi tirabaci lì cosa sono i tirabaci non ti piace la mia conciatura stamattina mi sono lavato i capelli e voglio cercare di lasciarli crescere perché corti mi hanno un po stancato poi andiamo verso l'inverno e loro i tirabaci sono questi quanti baci mi dai allora dopo i tirabaci allora li metto dietro le orecchie non si vedono più i tirabaci bene allora vi mandiamo tanti baci ciao